E' morto nella sua casa di Houston, in Texas, John Hillerman, reso famoso dalla popolare serie tv degli anni 80, Magnum P.I. con Tom Selleck, dove interpretava il ruolo di Higgins, l'uomo tuttofare dell'Hawaii, e assoluto braccio destro del protagonista. L'attore aveva 84 anni, il suo ruolo nella fortunata saga televisiva gli valse un Golden Globe nel 1982 e un Emmy Awards nel 1987. Si era ritirato dalle scene 17 anni fa. In un'intervista disse, il ruolo di Higgins era il mio preferito, per questo che non ho accettato altre parti importanti dopo Magnum. Su richiesta di Hillerman non sarà organizzato alcun funerale.